Carissimi imprenditori, manager e proprietari d'azienda, voglio provare a rendere più chiaro cosa spinge un'associazione economica come Haiti ad occuparsi dei temi della responsabilità sociale di impresa. Voglio farlo perché ci capita di raccogliere dei feedback di perplessità rispetto all'impegno di un'associazione come la nostra sui temi sociali ed ambientali. Non siamo diventati un sindacato e nemmeno un'associazione ambientalista e siamo semplicemente sicuri che il mondo è decisamente indirizzato verso la lotta al suo riscaldamento climatico e premierà quelle imprese che avranno colto il nuovo paradigma del fare azienda. Il problema ambientale è un'emergenza che per essere affrontate ha bisogno del sostegno di tutti e dell'impegno di tutti. Il mondo economico non può assolutamente sottrarsi a questa situazione sia per questioni etiche e morali sia per il fatto che le normative e le leggi sul tema stanno crescendo in modo esponenziale. L'appello ad una maggiore sensibilità sociale è per noi un grande e chiaro segnale di tutti gli stakeholder che stanno lanciando e comunicando sui mercati. Ogni impresa lungimirante ascolta questi segnali e mette a punto delle misure e delle strategie per rispondere. In questo momento i segnali che noi vediamo sono la carenza di mano d'opera che rende indispensabile per le imprese divenire più attrattive, i mercati e i fatturati che si indirizzano verso le imprese più socialmente responsabili e impegnati, i governi e gli enti pubblici che regolamentano premiando e privilegiando quelle imprese che più creano valore per il proprio territorio, la finanza infine che sta orientando i capitali verso investimenti più sostenibili. Noi questi trend li vediamo chiaramente e in larga misura non sono più dei trend ma dei veri e propri fatti. Sappiamo che i cambiamenti che si impongono sono complessi, costosi e necessitano di un cambiamento culturale. Proprio per questo poniamo al vostro fianco in modo che crediamo pragmatico e concreto. Grazie al nostro ruolo di associazione abbiamo e avremo la possibilità di ottimizzare risorse, ottenere dei finanziamenti e mettere in rete tutte le esperienze. Cerchiamo di innovare costantemente la nostra offerta e al momento abbiamo tre strumenti e servizi che proponiamo a tutte le imprese del territorio e non necessariamente solo alle nostre imprese associate. Sto parlando del report CSR di territorio, della consulenza alle imprese che introducono o regolamentano la possibilità di effettuare smart working e di Haiti for Welfare, la piattaforma di welfare per le imprese che permette di personalizzare un proprio piano di welfare sulla base delle necessità delle proprie persone, dei propri collaboratori. Non vogliamo dirvi cosa fare, noi il vostro lavoro non lo sappiamo fare. Vogliamo solo darvi supporto, strumenti e consulenza, spesso a prezzi quasi simbolici, su temi puntuali e concreti. La CSR è una di queste ed è una cosa che sappiamo fare. Se abbiamo destato il vostro interesse, prendete contatto con noi all'indirizzo info.ait.ch. Arrivederci.